Musica Benvenuti a TeleCRU, il notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. La Commissione Consiliare Antimafia ha ascoltato in audizione il Procuratore Generale della Repubblica Fausto Cardella per un'analisi dei settori a rischio per possibili infiltrazioni della criminalità. Ce ne parla Paolo Giovagnoni. I consiglieri membri della Commissione d'inchiesta, oltre al Presidente Leonelli erano presenti Attilio Solina, Scarla Casciari, Silvano Rometti e Emanuele Fiorini, hanno interloquito con il Procuratore Generale della Repubblica di Perugia Fausto Cardella su tematiche rilevanti per la sicurezza dei cittadini e l'ordine pubblico dagli appalti alla ricostruzione post-terremoto al contrasto alle tossicodipendenze. Cardella ha detto che in Umbria i problemi sono di minore entità rispetto ad altre regioni italiane, non ci sono segni di una radicalizzazione sul territorio della criminalità organizzata. Il vero rischio è quello delle infiltrazioni di denaro malavitoso, degli interessi, di quel modo di pensare che può trovare spazio fra le molte difficoltà che la crisi economica sta provocando alle imprese Umbre. Ci sono settori a rischio e sono certamente quelli dove vanno i soldi. È da questo che dobbiamo difenderci strenuamente e il ruolo dell'ente pubblico può essere rilevante quando c'è da capire perché un'impresa accetta di sostenere anche costi che non sono remunerativi e così facendo mette fuori mercato le imprese sane. Il presidente della commissione d'inchiesta, Giacomo Leonelli, ha annunciato l'impegno della regione nel fare quanto possibile di competenza per far emergere le problematiche, anche confrontandosi con le associazioni di categoria che dispongono di dati relativi all'attività delle imprese che neanche la procura conosce se non quando emergono fatti illeciti. Gli appalti con massimi ribassi sono stati lo stimolo che ci ha guidato nel promuovere la visura di tutti gli appalti della regione, ha detto Leonelli, per vedere se vi si trovano procedure anomale. Leonelli ha anche ricordato che la regione è stata ammessa a seguito della proposta da parte della commissione d'inchiesta alla Costituzione quale parte civile nel processo quarto passo mentre è in fase di attivazione l'osservatorio regionale antimafia che abbiamo fortemente voluto riattivare potenziandone la struttura rispetto al passato. Dobbiamo tutelare le imprese che lavorano seriamente rispetto a quelle che non hanno niente da perdere e le sfavoriscono. Per quanto concerne i dati che si riferiscono alla criminalità, il procuratore ha sottolineato aspetti positivi, Perugia non è più crocevia dello spaccio come qualche tempo fa, sono calati i morti per overdose, si registra una flessione anche sui reati di strada come furti e rapine, fenomeni che comunque persistono e su cui vi è intensa attività da parte delle forze dell'ordine. La seconda commissione dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, presieduta da Erosbrega, si è riunita lo scorso 17 marzo a Terni, presso il Palazzo della Provincia, per ascoltare in audizione i rappresentanti di Arpa Umbria, Umbria 2 e il sindaco di Terni, Lopoldo Di Girolamo, sulla situazione degli inceneritori di Terni e in particolare quella relativa all'autorizzazione dell'impianto di Terni Biomassa. Dalla riunione è emersa la necessità di uno studio epidemiologico approfondito sullo stato di salute della concaternana dal punto di vista ambientale e sanitario. Soltanto così si potrebbe dare una base solida alle istituzioni e alla politica per poter prendere decisioni utili alla salvaguardia del territorio. E sempre sulla questione relativa all'inceneritore Terni Biomassa, la seconda commissione ha ascoltato nell'ultima riunione a Palazzo Cesaroni l'assessore Fernanda Cecchini e i funzionari del servizio autorizzazioni ambientali, Marco Paganini. L'assessore regionale all'ambiente e i tecnici del servizio autorizzazioni ambientali sono stati ascoltati dalla seconda commissione dell'Assemblea Legislativa per approfondire ulteriormente il quadro delle procedure autorizzative per l'inceneritore Terni Biomassa. Durante l'incontro è stato spiegato che la delibera di giunta recentemente approvata valuta necessario uno studio approfondito della USL Umbria 2 sulle correlazioni tra rischio sanitario specifico e fonti prevalenti di emissioni a Terni e nella concaternana. Il documento chiede la realizzazione entro 90 giorni di un primo approfondimento sul rischio sanitario specifico relativo agli impianti di coincenerimento presenti sul territorio e auspica l'espressione di pareri univoci e concludenti da parte della USL. La giunta regionale, è stato infine spiegato, non può interrompere il procedimento amministrativo di rinnovo dell'autorizzazione a Terni Biomassa senza dati sanitari che giustifichino tale decisione. Inoltre il blocco del procedimento non porterebbe alla chiusura del termovalorizzatore. L'impianto infatti dispone di un'autorizzazione che scadrà nel 2019 e prevede livelli emissivi più alti e minori controlli rispetto a quella nuova. Via libera dalla terza commissione alle modifiche integrazioni alla legge 19 del 2009 che prevede norme per la promozione e lo sviluppo delle attività sportive, motorie e ricreative. La proposta legislativa firmata da consiglieri di maggioranza ed opposizione. Vediamo. Con quattro voti favorevoli, Casciari, Chiacchieroni, Solinas e Rometti della maggioranza e due astenuti, carbonari del Movimento 5 Stelle e De Vincenzi del gruppo Ricci Presidente, la terza commissione presieduta da Tilio Solinas ha dato il via libera all'iniziativa legislativa firmata dai consiglieri Casciari, Chiacchieroni, Solinas, Ricci e Rometti che prevede modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 del 2009 che contiene norme per la promozione e lo sviluppo delle attività sportive, motorie e ricreative. La proposta riguarda il potenziamento dell'attività motoria e sportiva nelle scuole e nelle strutture dedicate con il coinvolgimento dei soggetti preposti quali il CONI, gli enti di promozione sportiva, le federazioni, l'associazionismo sportivo, i comuni, le istituzioni scolastiche e in generale tutti i soggetti coinvolti nel sistema sportivo regionale. Tra le finalità della legge, lo sviluppo delle relazioni sociali. La scuola viene riconosciuta come luogo preeminente per la promozione dei valori della pratica sportiva e motoria. La legge punta, tra l'altro, alla promozione dell'adeguamento tecnologico dell'impiantistica regionale ai fini del risparmio energetico e alla sua diffusione equilibrata sul territorio delle strutture. Tra le novità previste nel testo, la previsione delle palestre della salute, strutture pubbliche o private, riconosciute dalla regione attraverso procedura di certificazione, dove possono essere svolte attività di esercizio fisico, scientificamente definito e prescritto da un medico, a persone affette da patologie croniche non trasmissibili per le quali è clinicamente dimostrato il beneficio prodotto dalla pratica dell'esercizio fisico. Previsto un comitato tecnico-scientifico, con una funzione consultiva e propositiva nel quale saranno rappresentate tutte le strutture operanti nel settore. La Commissione Speciale per le Riforme Statutari e Regolamentari dell'Assemblea Legislativa, presieduta da Silvano Rometti, si è riunita a Palazzo Cesaroni per discutere delle modifiche a regolamento interno. In particolare sono state illustrate dagli uffici quelle relative alla valutazione delle politiche regionali. L'ipotesi è quella di dare al Comitato per il Controllo e la Valutazione, che già esiste, un ruolo di impulso, consentendogli di proporre alle commissioni consigliari, lo svolgimento di missioni valutative su determinate leggi. In questo modo, ha detto il Presidente Rometti, si arricchisce il ruolo del Comitato in maniera significativa, senza ledere le prerogative delle commissioni. Audizione in terza commissione in merito alla legge per la prevenzione e il contrasto alla ludopatia. Paolo Giovagnoni I gestori delle apparecchiature per il gioco lecito, erano presenti il Presidente Umbro di Sappar, Luca Patoia, accompagnato da Claudia Procacci e Andrea Savini, hanno affermato di non avere alcuna obiezione sulla legge regionale di contrasto alla ludopatia, sia per quanto concerne l'equiparazione delle sale da gioco alle sale scommesse, circa la distanza dai luoghi sensibili, come scuole o centri di aggregazione, sia per ciò che concerne la formazione degli operatori alla sensibilizzazione sulle problematiche indotte dal gioco d'azzardo. Il punto di frizione è determinato dagli orari di spegnimento delle slot machine, introdotto da un emendamento proposto dal consigliere Andrea Smacchi, con il quale si dà la possibilità ai comuni, al fine di tutelare la salute e la quiete pubblica, di disporre limitazioni orarie all'esercizio del gioco, tramite gli apparecchi elettronici, all'interno di sale da gioco, sale scommesse, esercizi pubblici e commerciali nei momenti di massimo afflusso. Ciò potrebbe comportare, secondo i gestori, la migrazione di persone da un comune all'altro, a seconda degli orari di chiusura, e soprattutto la possibilità che, una volta spente le macchinette per il gioco legale, i giocatori, anziché smettere, passino all'utilizzo di altre apparecchiature, quelle per il gioco via internet, che non sono assoggettabili ad alcun tipo di normativa, e in molti casi sconfinano anche al di fuori della legalità. Tocca dunque all'Assemblea Legislativa, poiché la Commissione ha già approvato l'atto, decidere se stralciare l'emendamento sugli orari o se approvare la proposta di legge d'iniziativa della consigliera Carla Casciari con l'emendamento aggiuntivo di smacchi. Proprio Andrea Smacchi ha ribadito che l'obiettivo è quello di limitare la possibilità del gioco in certe fasce orarie, in quanto si è notata la coincidenza con gli orari di entrate e uscita dal lavoro o dalla scuola. Ogni comune, ha sottolineato Smacchi, può scegliere se adottare fasce orarie di protezione oppure no. Il nostro ruolo è quello di tutelare i cittadini e segnatamente le persone particolarmente esposte al problema del gioco. Alla presenza di oltre 100 studenti di istituti superiori di Perugia si è svolto a Palazzo Cesaroni un incontro dal titolo Io mi voglio bene al quale ha preso parte Leonardo Cenci, fondatore dell'associazione Avanti Tutta, il servizio. Un combattente vero non si arrende mai. Il farmaco migliore per affrontare una grave malattia è nel tuo stesso pensiero, nella tua forza mentale, nella determinazione di affrontare ogni situazione con il sorriso e la serenità. Leonardo Cenci, alla quale nel 2012 gli fu diagnosticata una grave patologia oncologica con una brevissima aspettativa di vita, ha lanciato un messaggio forte, accolto con un altrettanto forte applauso dagli oltre 100 studenti di alcuni istituti superiori di Perugia che hanno partecipato a Palazzo Cesaroni e alla Sala Brugnoli a un incontro con l'associazione Avanti Tutta Ollus che raccoglie fondi per la ricerca per il reparto di oncologia dell'ospedale di Perugia e di cui lo stesso Cenci è fondatore e presidente. Il titolo dell'incontro, voluto dalla presidente dell'Assemblea Legislativa, Donatella Porzi, era Io mi voglio bene, un tema su cui si è sviluppato un interessante confronto. Leonardo, ha detto la presidente Porzi, è un personaggio che va conosciuto profondamente e che per noi rappresenta un grande esempio di vita. Tra i promotori dell'iniziativa, la consigliera Carla Caciari, che ha rimarcato come nel titolo dell'incontro è nascosto un grande messaggio, cioè avere la consapevolezza che tutto è possibile. Leonardo Cenci ha spiegato che l'associazione Avanti Tutta è nata tre anni fa, registrando sin da subito una grandissima presa sul territorio. Siamo felicemente consapevoli di percorrere un binario importante che è quello della passione, del sostegno alle persone meno fortunate. Con le scuole, ha spiegato Leonardo Cenci, sto portando avanti un progetto che ha la finalità di dare ai ragazzi una percezione diversa da quella che potrebbero avere rispetto alla vita. Cerco di fargli capire l'importanza della salute e soprattutto di pensare positivo. E per questa edizione è tutto. Vi ricordo che TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive dell'Umbria e è disponibile anche in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa Regionale consiglio.regione.umbria.it e su YouTube. Grazie per averci seguito. Ci vediamo la prossima settimana. Arrivederci. Grazie per aver guardato il video.